Ciao a te, siete su ScabintheBull, parliamo di stablecoin, parliamo di Binance, cerchiamo di capire dopo quello che è successo a FTX se ci possiamo fidare dell'ecosistema cripto, cioè del mondo cripto, possiamo tenere i soldi nel mondo cripto oppure no? Allora cerchiamo di capire qualcosa, quindi il contesto qual è? Bitcoin sta crollando, ok? Meno 7%, siamo andati addirittura sotto i 17.000, stiamo rompendo dei livelli molto importanti, Tiri un meno 10, insomma si sta distruggendo un sistema, FTT solo ieri è fatto più del meno 80%, insomma sta crollando tutto, ok? Solana pure sta evaporando, insomma si sta distruggendo un po' il sistema. Quindi adesso ci tocca parlare degli stablecoin, ok? Perché in questi momenti qua dove abbiamo dei problemi, perché abbiamo dei problemi? Perché questo per esempio è lo stablecoin, boost USDT e avete visto sta perdendo il PEG, in realtà non sta succedendo nulla, se vedete questo grafico sembra un bellissimo breakout, ma in realtà si è spostato dello 0,14%, ok? Questo è niente. Se andiamo a vedere il daily invece, ah questo è il daily, avete visto questo quando è successo la roba di luna, è crashato il sistema e addirittura ha perso il 10% di PEG, ok? È andata a 1,10%, quindi USDT ha perso il PEG del 10%, boost invece ha retto, ok? Il nostro punto debole è USDT in questo momento, però vi devo spiegare perché adesso dobbiamo fare attenzione, ok? Vi faccio un disegnino, quindi questo è un cerchio dove all'interno abbiamo i soldi dello stablecoin, ok? In teoria lo stablecoin che cos'è? È un qualcosa, quindi in questo caso boost, oppure parliamo di USDT, quindi USDT, dove io ti do un USDT e in cambio tu mi dai praticamente un dollaro o un euro o quel che è, ok? In questo caso è un dollaro, quindi USDT dice che io ti do un USDT e tu mi dai un dollaro. Io con questo dollaro lo tengo da parte perché tu quando vorrai riprenderti il dollaro, tu mi dai indietro l'USDT e ti do il dollaro, ok? Questo è un sistema dove ovviamente non può avere criticità, non può avere nessuna criticità, quindi tutti quelli che entrano danno dollari in cambio e ti dà l'USDT. Quando vuoi fare il cambio sono lì che ti aspettano, ok? Così dovrebbe funzionare, ma ovviamente non è così. Quindi nessuno nel mondo delle criptovalute è backed uno a uno, quindi nessuno ha questa cosa, ok? Quindi ovviamente perché poi? Perché quando tu poi metti lo stablecoin, questi qua non è che tengono i soldi lì fermi a marcire, vorrebbero farli fruttare e poi così ti possono anche dare degli interessi, ci possono guadagnare, eccetera, ok? Quindi nessuno tiene i soldi lì fermi, purtroppo nel mondo normale abbiamo delle riserve di oro, eccetera, eccetera, poi anche lì ce ne sarebbe da parlare. Comunque parliamo solo del mondo cripto, quindi io ti do questo dollaro e tu mi dai l'USDT, però tu non lo tieni lì fermo, ok? Che ci fai con quello lì non lo sappiamo, ok? Non sappiamo esattamente, ovviamente USDT per esempio dice, sì non vi preoccupare, quando volete indietro i vostri dollari, dateci tutti gli USDT che avete e non ci sono problemi, ma in realtà sappiamo che non è così. Però quando è che dobbiamo iniziare a preoccuparci? Questo è il vero punto che voglio sviluppare oggi. Allora, questo cerchio qua sono dove entrano i soldi, ok? Quindi entrano i soldi veri, quindi dollari veri, fiat dollari veri, ok? Ed escono USDT, ok? Fin quando noi abbiamo più persone che entrano non ci sono problemi, quindi quando il mercato è stabile o comunque sta salendo, ci sono più persone che entrano e che dicono dai, sai che c'è? Mi sa che compro anche io delle cripto, quindi vi do tranquillamente i miei dollari e compro le cripto. Con le cripto mi dai USDT, con le USDT compro le cripto, nel frattempo magari salgono, anche se non siamo in burran, magari salgono di un po', comunque rimangono lì, e non c'è nessun problema perché poi magari lo vado a dire ai miei amici di caso, sai che ho comprato le cripto, sono salite, ci ho guadagnato XY, falla anche tu, quindi arriva più gente di quello che poi esce, ok? Quindi gente che dopo che ha fatto l'investimento in cripto ritorna, rimette dentro i soldi e poi dopo esce, ce n'è meno in questo periodo qua, quindi c'è più gente che entra di quello che esce, quindi praticamente non ha nessun bisogno lo stablecoin di tenere soldi da parte, ok? Teoricamente non ha nessun bisogno perché tanto ha più liquidità in entrata che liquidità in uscita, ok? Quindi effettivamente non ci interessa nemmeno sapere se ha il 100%, se lui tiene là il 100% dei soldi, se ne tiene il 5%, il 10%, il 20%, non ci interessa perché tanto non abbiamo problemi, ok? Quando è che abbiamo problemi? Quando è l'inverso, quindi quando escono molti di più di quelli che entrano, e quando è che accade questo? Quando scende il mercato, perché la gente non è incentivata, o comunque chi ha le cripto, anche se li sta tenendo, sta perdendo, quindi non ha nessun incentivo né volere anche solo uscire, cioè se tu compri, non so, bitcoin a 10.000, va a 20.000, magari la metà di questo guadagno qua, esci e te la vai a spendere, ma quando questo magari da 20.000 va a 10.000, che crolla, non sei incentivato a togliere i soldi per poterli spendere, no? E quindi comunque c'è meno possibilità di avere altre persone che possono entrare e mettere i soldi lì, ma abbiamo più la possibilità di persone che vogliono uscire e dire basta, non posso più di questo mercato qua, vendo tutto e me ne vado, ok? C'è meno incentivo, avete visto che comunque appunto il mercato sta scendendo, sta crollando, e il problema è che più crolla, cosa succede? Quindi succedono delle cose come con FTT, come con Luna, dove loro avevano il loro stablecoin, o comunque avevano i loro sistemi, dove se vanno male devono vendere le loro riserve di bitcoin, devono vendere le loro riserve di OSDT, devono vendere le loro riserve di FTT, devono vendere le loro riserve di qualcosa, di comunque qualcosa legato al cripto, e fa crollare tutto il sistema, ok? Quindi noi dobbiamo fare estremamente attenzione quando graficamente siamo vicini ai minimi, ok? Quando siamo qua, lontano dai minimi, non c'è problema, ok? Non dobbiamo pensare a queste cose difficili che possano avere dei problemi, quando siamo su All Time I figuriamoci che lì entrano soldi a parate, a caso, invece quando siamo in momenti pericolosi, con tante cose, tra l'altro stiamo già venendo da una discesa molto importante, cioè siamo già sotto del 75%, nonostante i fufaguro dicono che bitcoin andrà a 100.000, 500.000, 1.000.000, insomma, andate a vedere i miei video, io vi ho spiegato bene questa cosa, è corrato tanto, cioè adesso c'è molto pericolo, perché appunto può essere che appunto il sistema qua si va a inceppare, e come abbiamo visto si sta inceppando, abbiamo visto con FTX che insomma in pochi avrebbero creduto, nonostante il buon signor Sam, abbiamo visto che invece ha fatto un gran casino, ok? Come anche il nostro buono Luna, abbiamo visto che fine ha fatto, ok? E il sistema che è diverso, perché il mondo cripto è un mondo parallelo al mondo reale, ok? È decentralizzato e praticamente fa concorrenza al mondo reale, fa concorrenza al sistema, fra virgolette, ok? Io perché faccio trading nel mercato azionario, uso, metto i soldi su Fineco, nonostante faccio veramente schifo per fare trading, ha il book più lento della storia, fa veramente pena, ok? Per fare trading, ma perché ce l'ho lì? Ce l'ho lì perché mi fido di Fineco, ok? Mi fido di mettergli i soldi fino a 100.000 euro, anche se fallisce Fineco, non perdo quei 100.000 euro, quindi non ho nessun problema. E sai perché mi fido? Perché tanto, appunto, c'è proprio una legge che ti dice che fino a 100.000 euro non hai nessun problema, e mal che vada è lo Stato che ti dà i soldi, Stato, comunque siamo noi, però comunque i soldi, insomma, sono garantiti fino a 100.000, oltre ai 100.000 hai dei problemi. Quindi praticamente cosa faccio? Uso Fineco per mettere i soldi, per fare effettivamente gli eseguiti, ma il book lo uso da un'altra parte, ok? Dove non mi fiderei a tenere tanti soldi, ma la tecnologia per poter fare trading è buona e quindi uso quello, ok? La stessa cosa, il stesso ragionamento l'ho fatto nel mondo cripto. Non sono andato a finire dagli altri, sono andato dal più grande. Perché vai dal più grande? Vai da quello che è meno probabile che possa fallire. Può fallire? Certo, può fallire chiunque. È fallito Lemon Brothers, ragazzi, è fallito Lemon Brothers, che è molto più difficile che possa fallire qualcosa come Lemon Brothers che Binance. Eppure è fallito, ok? Quindi se può fallire Lemon Brothers può fallire qualsiasi cosa, ma la differenza è che noi abbiamo, per esempio, in Italia una legge che ci garantisce queste 100.000, cioè prende le tasse di tutti e le dà indietro a quelli che erano in quella banca che è fallita, ok? Nel mondo cripto non c'è questo, non c'è questa collettività di non ti preoccupare, se fallisce FTX o fallisce uno stablecoin, non ti preoccupare, facciamo tutti una colletta e vi diamo i soldi. Non esiste questo, ok? Quindi non c'è nessuna garanzia, quindi se comunque falliscono delle banche come Lemon Brothers, a maggior ragione può fallire tutto questo sistema che è molto più fragile, ok? Capitolo, nonostante i fufaguro, eccetera, dicono delle altre cagate, ecco un esempio. Secondo voi tutti gli exchange maggiori, tra cui Binance, per dirne uno, che detengono tantissimi fondi in USDT nei loro cold wallet, si addosserebbero il rischio di utilizzare una stablecoin a rischio di insolvenza? Secondo me no. Ti hai capito? Ti hai capito, ti riscoltiamo. Per dirne uno, che detengono tantissimi fondi in USDT nei loro cold wallet, si addosserebbero il rischio di utilizzare una stablecoin a rischio di insolvenza? Secondo me no. Ecco, quindi sappiamo che se il fufaguro dice questo, sappiamo che è vero l'esatto contrario, ok? Quindi il mondo cripto è molto più fragile rispetto al mondo normale, al mondo fuori, ok? Proprio perché appunto abbiamo la DeFi, non sappiamo chi c'è dietro, c'è un po' tutto delle cose un po' così, insomma non abbiamo uno stato, non abbiamo qualcuno che può stampare soldi, è tutto un po' così. E di più noi non sappiamo se USDT, nonostante dica come diceva appunto anche FTT, anche il nostro Sam diceva non ti preoccupare, io Binance se vuoi, ti compro io tutti gli FTT a 20 e il giorno dopo è andato a 3, ok? Quindi il giorno dopo, non un mese dopo, il giorno dopo. Quindi qua ognuno racconta le cagate che vogliono, ok? Racconta le grandissime cagate. Noi non ci dobbiamo cascare, ok? Il sistema è questo. Quindi anche Binance ha le sue fragilità e come se ce li ha, ok? Binance per esempio dice che non vi preoccupate che se fallisce Binance o comunque ci sono dei problemi con Boost eccetera, noi abbiamo un'assicurazione da un miliardo per esercire le persone eventualmente, sì, ok? Però dopo se vai a leggere bene, 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 dice anche che questo miliardo è in BNB. BNB, andiamo a vedere quanto sta facendo BNB, anche qua vi fa capire il meccanismo, ok? Il daily di BNB, anche qua comunque dai massimi, dai massimi, siamo scesi meno rispetto a Bitcoin, comunque a meno 60%, ma questo miliardo era più o meno calcolato sui massimi, ok? Quindi già adesso non abbiamo più un miliardo, ma ne abbiamo la metà, ok? Perché è sceso dalla metà, quindi se noi abbiamo un miliardo quando BNB era ai massimi, quindi questo miliardo è in BNB, adesso che vale la metà significa che i soldi per esercire sono la metà, sono 500.000. Ma sappiamo anche che se poi, appunto, quando è che abbiamo dei problemi? Se il sistema crolla, quindi se Bitcoin va a 5.000 perché va a liquidare Sailor Moon, cosa fa BNB? Sale? No, crolla anche BNB. E quanto va? Magari va a 100. Se va a 100 significa che quei miliardo diventano 200 milioni, quindi capite che non ci sono i soldi, ok? Quindi anche se è vero che loro hanno questa sicurazione da un miliardo, non ce l'hanno per la cifra che loro dicono, ok? Quindi, attenzione, ok? Quindi anche BNB, poi anche CZ, molto simpatico, bravo, complimenti, stai facendo un ottimo lavoro, hai creato l'exchange più incredibile del mondo, il book più fantastico del mondo, ma l'hanno sul fuoco, io non lo metto a nessuno, ok? Io poi, sapete, non sono sponsorizzato a nessuno, io comunque, anche se lo fossi, vi direi comunque la verità, perché comunque devo salvare i soldi degli altri, io la notte voglio dormire, non voglio fare figure di merda che fanno tutti questi fufaguro, ok? Quindi io le cose ve lo dico, non mi riferisco a niente, io faccio i video anche sapendo che il mio canale può essere bannato, non mi interessa, bannatemi il canale, io intanto ieri ho salvato un sacco di persone e un sacco di soldi, e io dormo sereno, ok? Questi altri cialtroni non so come dormono, però il sistema è questo, quindi non mi fido neanche di Binance. Però in questo momento qua sappiamo i punti deboli, i punti deboli sicuramente non è Binance, sono tutti gli altri, ok? Tutti gli altri che hanno meno liquidità, che funzionano molto peggio, prima che salti Binance devono saltare gli altri, ok? E per adesso è saltato il secondo, cioè BFTX, quindi comunque io che cosa ho fatto? Comunque ho tolto tanti soldi da Binance, ok? L'ho tolto anch'io, l'ho tenuto solo la cifra che mi serve per tagliare, è vero io ho una size un po' più grande, però già io di solito ho una size da 10.000 e full size è 20.000, già l'ho portato a 15.000, ok? Quindi opero con 10.000, massimo 15.000, perché? Perché adesso è in un momento pericoloso, ok? Quindi io non mi fido di nessuno, quindi ho detto ok spostiamo un po' di soldi, io poi in realtà avevo due Binance, e l'altro l'ho completamente svuotato, questo invece ho ottenuto solo i soldi per far trading, ok? Chi se ne frega eventualmente, tanto comunque se sei profittevole, tanto la size poi dopo ritorna aumentare. Però insomma voglio essere un po' più tranquillo, ok? Quindi se chiude domani non mi interessa chi se ne frega. Però come facciamo a capire quando è il momento di spostare i soldi anche da Binance? Dipende dal suo stablecoin, ok? Quindi per adesso noi stiamo vedendo da questo grafico che sta perdendo il PEG, non Boost, quindi Binance, ok? Perché questo è un indicatore, se fosse il contrario vuol dire che Binance sta avendo un problema e il suo stablecoin, cioè Boost, è in difficoltà, invece adesso in questo momento sta dicendo che non è in difficoltà Boost, ma in difficoltà USDT, ok? Sappiamo che USDT non si capisce bene se ha soldi da parte o no, io sono sicuro al 99,9%, anzi metterai anche Bull, 100% che non ha tutti i soldi per far sì che chi vuole uscire possa dare indietro tutti i soldi e quindi è il punto debole, è il punto marcio. Una volta che possa fallire USDT, dopo lì sposterei i miei soldi, quindi se qua comunque va a finire male, per esempio se questo va a 1,10 cosa succede? Se tu hai Boost, hai guadagnato il 10%, ok? Se noi ci svegliamo di mattina e USDT è a 1,20, noi abbiamo guadagnato il 20%, ok? Quindi io da tanto tempo che vi dico di tenere Boost, ok? E da quando? Da quando c'è stato nel daily questa candela qua, ok? Da quando è perso il PEG, l'USDT, vi dicevo di fare attenzione, di mettere un alert, ok? Questo è l'1% a 0,1%, quindi io già un alert a più o meno l'1% lo metterei, quindi basta andare sul cellulare, vai nella coppia Boost, USDT, metti un alert 1,1 qua e sotto a 99 e così hai l'1% di scarto, ma al che vado tu perderai l'1% di scarto, quando vai a letto, se proprio hai paura, metti che in automatico uno stop limit che ti inverte, quindi se per forza vuoi tenere l'USDT, metti uno stop che cambia in Boost, se arriva a 1,1, adesso è 1,0,0,0,2, ok? Quando arriva 1,0,1, quindi l'1%, ma al che vado da perdi l'1%, chi se ne frega, e fai il cambio in Boost, altrimenti prima di andare a letto fai il cambio in Boost, tanto è gratis, ok? In Boost in questo momento qua ci possiamo guadagnare e basta, ok? Quindi il debole non è Boost ma è USDT, se invece fosse il contrario andremo a metterlo su un altro stablecoin, quindi eventualmente lo metteremo su USDT o qualcos'altro, oppure per non sapere né scrivere né leggere lo mettiamo tranquillamente su Fiat, quindi in euro o in dollari reali, ok? Quindi lo metti direttamente in euro, ok? Io non penso di avere nessun problema, a certezza non ce l'abbiamo, ma io lo tengo in Boost e se stanotte Bitcoin dovesse dare a, che ne so, 10.000, potrebbe perdere il PEG, comunque potrebbero speculare, cercare di distruggere USDT, magari va a 1,20, 1,30, noi comunque in Boost ci guadagniamo il 30%, ok? Nel caso in cui invece facesse il contrario, quindi perdesse, Boost il PEG, quindi dell'1%, basta andare a letto, mettere uno stop limit e siete a posto, o qualsiasi cosa accade, siete a me che va, date perso l'1%, ok? Questo è l'unico modo per poterci salvare da questo. Prima che possa fallire Binance, deve fallire il suo stablecoin, quindi il suo stablecoin è il nostro indicatore per dire quando è che noi dobbiamo tirar fuori i soldi da Binance, ok? Quindi abbiamo un indicatore che ci anticipa, per adesso Binance non ha questo problema, ok? Ragazzi, quindi su questo possiamo stare tranquilli. Detto ciò, il problema sappiamo dov'è, quindi questo ve lo spiego. Quindi solo quando siamo vicini ai minimi e vicini a dei flash crash, cioè quando possiamo aspettarci dei crolli forti, dobbiamo fare attenzione a dove tenere i nostri soldi, ok? Quindi nel mondo cripto fa tutto schifo, andiamo a dove fa meno schifo. In questo momento, quindi domani può essere diverso, in questo momento fa meno schifo tenere boost e fa meno schifo essere su Binance. Tutti gli altri, quindi cripto.com, tutti gli altri sono molto più pericolosi che stare su Binance, ok? È il più grande. Prima devono saltare gli altri. O comunque abbiamo un indicatore bellissimo che è il nostro boost. Stop limit. Dormiamo, sono lì tranquilli. Io ho messo il minimo indispensabile su Binance. Voi mettete il minimo indispensabile. Cioè se avete i soldi della casa, è stato per comprare una casa, avete i soldi, ragazzi spostateli. Non è il momento di stare lì con i soldi della casa, ok ragazzi? Cioè capiamoci. I soldi per fare trading deve essere comunque una piccola percentuale dei soldi che avete, ok? Se avete i risparmi di una vita, ragazzi, non è il caso. Questo è un momento dove comunque possiamo avere mesi difficili anche per i mercati finanziari, teneteli su una banca italiana 100.000, prendete 10 conti normali, andate da Unicredit, da San Paolo, da Fineco, cioè mettete fino a 100.000 per ogni conto, mettete un conto voi, un conto vostra madre, un conto che, insomma, un conto della vostra moglie, cioè a voglia, e siete sicuri che con 100.000 euro per ogni conto dormite tranquilli. Il mondo cripto non esiste questa garanzia, ok? Non c'è nessuno che stampa soldi, non c'è nessuno che vi garantisce. Anzi, c'è proprio il sistema che vorrebbe distruggere il mondo cripto, ok? Capiamolo bene. Quindi, semplicemente, usiamo l'astuzia. Fine. Direi che abbiamo detto tutto. Nel frattempo, il prossimo, che potrebbe essere il nuovo Luna, è Tron. Quindi fate attenzione a Tron e chi è dentro. Insomma, comunque anche graficamente, siamo già messi abbastanza male. Per il resto, direi che siamo a posto. Scrivete nei commenti se avete altri dubbi. Però, io, ricapitolando, ho fatto così. Sono su Binance. Prima di spostare, ho spostato il grosso, diciamo. Quello che tengo adesso è la size. Va bene per fare trading, e chi se ne frega. E comunque, come indicatore, ho Boost. Che mi dice se sta per fallire o no, ok? O se sta in grossi problemi o no, ok? Quindi non ci interessa delle parole che ci dicono. Perché sono parole, avete visto, anche FTX. Chiunque, in malafede, così, ti dirà che non ti preoccupare, eccetera. Perché non vuole che tu scappi, ok? Poi io vi ho detto la verità, vi dirò sempre la verità. In questo momento, anche qua, vi sto dicendo la verità. Fa schifo anche Binance. Non è che non fa schifo Binance. Però, in questo momento, fa più schifo USDT. Quindi, teniamo. Stiamo su Binance e stiamo su Boost, ok? Detto questo, scrivetevi a YouTube, ai canali Telegram, Discord, Twitch, eccetera, eccetera, eccetera. E scrivetevi nei commenti quello che non avete capito, ok? Eventualmente poi ne parliamo in un altro video. Ciao!